Anche quest'anno la rappresentazione medievale di Malmozzetto, creata dal sindaco di Prezza, Marianna Scoccia, andrà in scena durante la giostra europea. Il 3 agosto alle 18, presso il cortile dell'Annunziata, ci sarà la rappresentazione della cattura di Malmozzetto. E il 4 parteciperanno, con una delegazione di 40 persone, tutte di Prezza, alla sfilata della giostra europea. Ma quest'anno la rappresentazione di Malmozzetto, che si terrà all'8 e il 9 settembre a Prezza, si rinnova con l'aggiunta del Paglio di Malmozzetto. Il 9 settembre, dalle 16.30, presso il campo sportivo di Prezza, ci sarà la prima edizione del Paglio, tutta al femminile. 5 Rione, Rione Colle, Rione Piazza, Croce Rione Aracupa, Rione Stazione, Rione Campo di Fano, si sfideranno alla conquista della vittoria. Iniziamo a buttare le basi per una grande manifestazione che vuole insieme, in collaborazione con la giostra di Sulmona, coinvolgere tutti i comuni della Valle Peligna. Queste le dichiarazioni del primo cittadino di Prezza, Marianna Scoccia.